La presenza assidua Cerchio esseno, anello a Chiara Sembra che la presenza assidua a tutta l'attività del Cenacolo, non solo dell'esseno, procuri una particolare attenzione delle guide per il partecipante. Infatti, chi è presente ad ogni riunione o di abba comanzia o di trance, collabora tenacemente ad energizzare la forma pensiero del Cenacolo e quindi la qualità della sua attività.